Un tragico incidente stradale ha causato la morte di tre giovani tifosi del Foggia e il ferimento di altre sette persone. L'incidente è avvenuto ieri sera lungo la strada statale Potenza Melfi nei primi chilometri del tragitto. Le vittime sono Gaetano Gentile, 21 anni, Samuele del Grande, 13 anni, e Michele Biccari, 17 anni, che avevano appena assistito alla partita di Serie C allo stadio Viviani di Potenza. I tre viaggiavano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura coinvolgendo anche un autobus. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale San Carlo di Potenza. Tra questi due si trovano in condizioni critiche in terapia intensiva, mentre un altro è stato ricoverato in chirurgia toracica. Gli altri feriti sono stati assegnati ai reparti di pediatria e medicina d'urgenza. La Polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente per prestare soccorso e raccogliere le prime informazioni sulla dinamica. La Procura di Potenza ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione tra i veicoli.